Un ping decisissimo ora Che bimbi Ditemi stop, ditemi stop Oh, è sparito, è sparito, dovete voi Allora, siccome prima sono rimasto male, lo faccio io Prendo l'elicottero Non c'è nessuno, pulizzo C'è nessuno Wow, c'è Calleino, lo prendo io, lo prendo Io mi metto a lootare Sto grandissimo Non ci credo, no, si è salvato, bravissimo Deve aver trovato una rifugina ormai Ho cassa di muni Non ho detto la tiro Ok Ahia, ora qua c'è la corsa per la sacca C'è già una prima posizione, attenzione Segue Hawk Ma il distacco è troppo Non basterà Trovo Hawk A su di scapito trova Autoreanimazione Trovate Ehm, non lo vuoi comunque Qui si si E dove è la? Qui sto Dove hai i corazzi? Siamo i soldi, abbiamo i soldi, ragazzi Corazze si, sono full Ho embarcato dell'equifacciamento No, no, no Ho anche io cassa di muni Siamo i soldi per tutto, praticamente Toglieremo Toglieremo Avete un lancio di equipacciamento in arrivo Tenaro, affermativo Guarda che quando... to' messo dentro Si Sei vicino? Si, molto Sul tetto, sul tetto E' uguale No, no, non mi ha aperto il paracadute, ma basta Arrivo, arrivo Francia, arrivo io Pre, perché ho attaccato la parete No, raga, io sono incastrato No, niente Li vedo, eh Sarò scendendo, sono sceso Vanno a prendere il lancio secondo me Ok Ok Non so, ti vuoi prendere l'autoress, Manu? Vieni No, ce l'ho io, ce l'ho Francia Io ce l'ho, manca Jamma, manca Jamma No, l'ho preso Ah, un 3, dite Sì, l'ho preso Sarebbe una ricognizione Lasci saldi qua C'è il Flush che sta pushando come un dragone Banca, uno con il scenario No, raga, che male fa, che male fa, che male fa No, che male fa È tuo, Manu, quello lì L'hai fatto? No, l'ho craccato Sto venendo da te, perché ti devo chiedere delle... Mette della piastra Cosa cazzo? 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 Stai dicendo Stai affantando a tutti Divisare lì Vieni ragazzi, ma stiamo scherzando? Ti vengo a tirar su io, ti vengo a tirar su io Anche a me mi ha fatto malissimo, fra Ti giuro Ok, non ho affantando E cosa, di cosa ho paura? Ti mi ha ucciso di uno Aura che non riesco a... A salire sul tetto Due piastre Due piastre, Manu, ce l'hai? Per l'umida francia Sì, sì, certo Eh, se qua sono bravini mi sa, eh A me mi ha fatto malissimo Secondo io, molto bravo Attenzione, bombardamento di precisione, alleato in arrivo Un'altra banca? Sì E' uno anche qua sopra il mio Cambio in posizione Cos'era sta flashbang? Inutile Apri quella porta lì, Manu, te? Di banca? C'è uno che sale anche qua, a volte Eh, figurati L'ha fatta... Non c'è piastre C'è un problema In dettaglio io, Francia raro C'è un banco Voto male Un è andato, eh Sì, è dall'altro pa... È dall'altro, Lu... Un altro, eh Scusate, qua Voto, un altro è andato Un è qua andato anche lui manca l'ultimo raga è quello dentro banca vestito di nero vero fai fatti bravi raga caccia le monizioni raga anch'io sono fuori anch'io anch'io un cazzo mi sono rotto il cazzo scusate ma c'ho cassa di munizioni di piastre io qualcuno vuole una corazza ma è vero c'è venuta anche sopra c'è lo zainetto prendete qualcuno vuole una corazza un altro sciacca già che siamo qua a parte che abbiamo tutto però già che siamo qua quanti sono quanti sono? eh non ci ho fatto caso uno 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 insomma qua c'è altra roba qualche figlio di puttana morto l'ho fatto io l'ho fatto io quello lì ma dov'è raga? c'è il silenzio di bamba c'è il silenzio di bamba raga è arrivato un colpo da sinistra anche a me da dove? ti giuro non capisco 167 tipo non capisco raga ok vengono prendere il lancio stanno bravi loro che cazzo devo fare ok io dallo shop di hospital poi prendo un altro bombardamento scusa eh ah ok ecco non deve essere super lenta e sta safe è anche veloce ma lenta no ho preso bombi e vi lascio i soldi per uno uova da tirare subito no io prendo un bombo poi vi lascio i soldi con i soldi che avanza mi ha tirato uno uova subito oh vi alleato in sorbolo ah dobbiamo portarci nella zona sicura eh no ah sono lontani si stronti ho preso anche un bombo ho l'ultima cassa raga faccio la qua davanti io un po' di soldi li terrei raga si taglia eh raga bisognerebbe arrivare qua qui li inzoniamo ve la sentite vai vai col para ci arrivate di lato fate molto più percorsa vai 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 andiamo mi metto io al volante mi chiedo davanti controllate un po' la taglia ok ce la facciamo ancora ci sta che ci sia già gente scendi baso l'autoress sappiamo tutti c'è in movimento qui c'è un bersaglio se ne mettete a terra uno c'ho il bombi se vuoi ci faremo insieme ho appena il mio 3 uno due si è buttato si è buttato il poveraccio ha panicato quello lì si 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 buttano tutti si buttano gli altri raga è stato uno ancora è stato uno dai 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 capito peccato nada è riuscito a andare è tutto da venire qua eh vabbè ancora si puoi anticipare andare da stadio secondo piano si dai qua siamo dietro pompieri esatto anche qua a villaggio portocross sto qua guarda che è qua più o meno la scensora sparano 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 a voi sono qua sono qua da me raga a terra fatto fatto colpito te lo do io l'ho fatto sono più di uno secondo me 44 metri a sinistra di qua riposizionamento si fatto uno non ne pinga più nessuno e magari c'è un fantasma boccio saliamo al secondo piano allora o andiamo direttamente a villaggio raga maschera e cassa di munizioni maschera mi serve se non ce l'avete tutti dell'equipaggiamento che cassa di munizioni la prendo tanto ok cresciamo subito raga si 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 dobbiamo stare attenti a villaggio che è qua secondo piano bel in bode come ti ho visto che ti sparava l'ho rovinato gli amici non si toccano ma poi manco mi caga fre col cazzo la prossima volta ti lascio morire perché ho detto ho detto raga prendo uno wow lo tiro subito ok continuiamo a salire subito cerchiamo di andare in seguito prima possibile poi teniamo la posizione si quelli dei bunker raga che sono in open da sopra potremmo trombarli si qua c'è la salittina eh no ma van veloci a me mi vedono mi vedono raga a me anche c'ho massimo alert ok pata prendo un uavo lo tiro da dietro ci arriva sicuro gente raga qua tutti quelli di stadio villaggetto forse tv station vengono qua attenzione radar ma ecco volete andare subito qua giù volete rimanere qua un attimino ditemi voi io arriverai proprio qua mi sposto ok vai andiamo che gente anche qua raga eh ma quanto gente c'è di là a destra eh infatti io arriverai proprio qua qua raga mi muovo di qua è topli secondo me come l'altro giorno ci si è trombati tutti cosa ha france qua la casetta perché ho visto una shadow e un proiettile prima ma non capivo da dove venisse raga macchina arriva la macchina bravo che bello questo è già ma con c4 ci scommetto bellissimo bravo oh qua sopra raga qua sopra copritemi copritemi ok sono safe tirato il bombardamento bravo è stato bene c'è un pozo il merda occhio 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 cazzo c'è un fantasma un team nemico vi sta inseguendo gas in movimento nuova zona sicura e individuata raga è un casino qualcuno mi ha visto cazzo da 150 raga io crosserei adesso qua ci vedo eh lo so però è un casino raga che dove sia sto cristiano che mi sparava rimboscato bene niente non lo vedo massima allerta non mi si attiva bravissimo chi ha tirato il bombardamento perché l'ho tirato io bravo per forza se no ci spaccava tutti ci sono quelle piastre che mi fanno una gola porco due che non ce l'avete idea ah perché ne hai fatto uno france no c'è quello di jammer sono i due di jammer mi tirano da dove bode raga vado a prendere la piastra 60 guarda questo 60 ce l'ho fatto ce l'ho fatto ci abbiamo gente anche qui ha preso una macchina qui c'è un bersaglio qui c'è un bersaglio tengo solo a te io jammer ok però spero che sono andati di là e basta dietro a sto punto secondo me non abbiamo più nessuno si sto guardando a sinistra non vedo niente ah guarda io rimango qua dentro con la maschera finché non arriva in se sei ah raga c'è gente c'è gente raga si sono portati via ho la porta aperta c'è anche qua perché eh lì dentro si sicuro vero 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 mi tirano wow raga wow c'è gente qua sopra raga spostamento della zona sicura qui c'è un bersaglio se mi spara voi raga quelli che ci sparano da destra devono arrivare siete salvi avete seminato gli inseguitori arriva un lancio d'equipaggiamento raga io li farei ammazzare dov'è so sti ovunque sono dietro questa staccionata qua eh c'è anche gente raga c'è chino che mira di risurre la raga uno su due non ho sparato non ho sparato ancora ero obbligato a terra uno lì dove? datemi un colpettino e li da al rosso occhio però a giam perché sono tre sto coprendo io riuscite a darmi un colpettino? qualcuno? sì 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 ok uno mi ha dato la kill arrivo arrivo erano due team allora ah sì ne arrivo guarda che c'è anche gente proprio davanti guarda che stanno giaccarelli bersaglio ammarcato no ma devono scendere con lì ah no cazzo eh questo è un problema o prendiamo la macchina ma è duro anche lì no ma siamo giro da destra i fanculo questi stiamo oltre la collina stiamo così c'è ancora gente di là cambia un po' di più all'entare sì c'è ancora gente l'avessi da? sì c'è ancora gente retromarche porco due mi mirano da lì vogliamo pushare questi? eh è quello che farei anche io ha crackato uno avanzo attenzione bombardamento di precisione alleato di arrivo bravi perfetto ora si ragiona ora si ragiona raga bravi raga ci abbiamo una buona posizione e dobbiamo vedere solo dove chiude questa casa qua raga è il top questa e non me la fa pingare quella lì dice eh sì però c'è solo un piano fre e restano 25 continua così eh gente sto presentata qua buono ci sono ste rocce qua ste rocce qua son buone andiamo a sinistra andiamo da quelle rocce la maschera ce l'avete tutti no? io sì esatto là in fondo raga con la casa là avanzo finché sono in tempo poi una volta che siamo in la posizione è anche facile da difendere in questo posto c'è un lancio qua da noi la casa là secondo piano c'è gente vediamo la raga devono uscire prima loro sì sì gente a destra che spara dietro non c'è nemmeno nessuno eccoli eccoli raga stanno per uscire ho visto uno sotto WAB nemico in volo c'è uno eccolo veicolo marcato dietro la macchina fatto 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 per uno solo? la sopra raga la sopra raga lì è un posto del cazzo lì c'è un bel posto potrebbe essere maggioranza numerica raga bisogna vedere chiudere ok perfetto appena ne mettete una terra raga ditemelo sul bombardamento eh eccolo la vittato non basta raccato uno là dietro di nuovo da sinistra a sinistra sono due raga no baso restati dov'è dov'è restatili restatili raga destra aiuto non lo vedo arriva raga aiuto sono due sono i due sono i due mi resto mi resto mi resto mi resto mi resto mi resto un altro apri il jamma occhi da sinistra ci sono i cecchini ok l'ho serrati e basta non l'ho confermato ok mi sto piastrando ti fai tantra di loro mi sa non l'ha confermato questo raga ma ok due fatti raga qua qua a sinistra uno craccato eh non riesco a direvelo no cazzo davanti raga verso est dritto est raga uno fatto deve venire verso di voi deve venire verso di voi raga ne mancano due raga ne mancano due dove guardo io di stato alla dietro alla dietro eccoli una destra e una sinistra solo raga bravi bravi raga bravi 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 ragazzi ho una kill ho una kill diamo zio cane ha fatto una partita di intelligenza si 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 bravi 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 easy 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 poi zee mica giallo manu shark vado zio cale manu shark